Da un anno in prima linea per assistere in casa le persone ammalate di coronavirus aumentano i pazienti e anche le visite. Le unità speciali lavorano senza sosta per garantire l'assistenza a domicilio, cercando di evitare che i positivi vengano ospedalizzati. Le usca di Fano, composte in totale da 26 medici e 5 infermieri, coprono anche altre zone come Mondolfo, San Costanzo, Pergola e San Lorenzo in campo. A raccontarci dell'attività è il coordinatore Luca Santilli. Luca, non avete il timore di operare nelle case di persone contagiate? Più che timore, la precauzione di coprirci completamente perché non siamo solo noi a rischio di prendere il Covid, ma abbiamo anche il rischio di portare il Covid poi nelle nostre abitazioni. Quindi dobbiamo essere attenti sia per noi che per i nostri cari. Un lavoro dunque che comporta capacità e massima attenzione. Le squadre, che sono formate da 4 medici e 2 infermieri per turno completamente bardati, possono gestire anche pazienti con sintomi polmonari più gravi, che continuano ad essere monitorati costantemente a casa per non sovraccaricare le strutture ospedaliere. Spesso purtroppo capitano anche di dover gestire dei casi critici. Quando sono veramente critici che ci rendiamo conto che le semplice cure domiciliari non bastano, ricorriamo al 118 e quindi poi all'ospedalizzazione. Purtroppo i reparti sono sempre più pieni, quindi a volte vengono rinviati a domicilio con ossigenoterapia e quindi dopo dobbiamo seguirli noi con uno stretto monitoraggio e delle rivalutazioni sempre più seriate. Vi occupate anche delle vaccinazioni? Al momento le USCA non si occupano delle vaccinazioni, noi ci occupiamo solo dei tamponi, quindi di trovare i positivi e poi di seguirli nella cura del Covid. E a causa dell'aumento dei contagi, prosegue Santilli, ogni giorno arrivano 30-40 richieste per tamponi e visite. Abbiamo sempre ricevuto dei grandi aiuti dalla regione, dall'Asur e dalla comunità, comunque attraverso raccolte fonde, donazioni. Abbiamo avuto un grande aiuto anche in termini di strumentazione, quindi con gli ecografi, i saturimetri, i saturimetri da lasciare ai pazienti a casa, quindi abbiamo avuto un grande aiuto. Il personale è sufficiente al momento? Al momento il personale sì, riusciamo comunque a coprire tutti i giorni, a coprire tutto il territorio e a coprire le richieste che riceviamo.